Musica Sala Consilina, affisso il manifesto per annunciare io voto salese. Roberto De Luca commenta tramite Facebook. Roscigno, tornano i briganti nel parco. Il 26 aprile incontro pubblico. Elezioni regionali, Vaccaro tende la mano a Caldoro. Sassano, domani sera incontro sul latte nobile organizzato dall'associazione Sassano Arte Cultura Spettacolo. San Pietro Altanagro, grande partecipazione all'incontro con il camper microcredito Pico. Buonasera, ben ritrovati per l'edizione serale di Uno News. E' comparso in queste ore negli appositi spazi un manifesto con l'annuncio io voto salese. Il manifesto riporta l'immagine dei monti alle spalle di Sala Consilina. Sconcertato il responsabile Codacons Vallo di Diano, Roberto De Luca, che ha subito commentato sul suo profilo Facebook. A Sala Consilina compaiono manifesti che chiariscono una posizione elettorale. Io voto salese. A mostrarsi perplesso pubblicamente da subito è responsabile Codacons Vallo di Diano, Roberto De Luca, che sul suo profilo Facebook lascia trasparire un certo sconcerto. Mentre da più parti ci si espone per chiedere a gran voce la fine di campanilismi, soprattutto in un territorio più volte penalizzato proprio dalle continue frammentazioni, arriva un manifesto che, probabilmente riferendosi alle prossime elezioni regionali, visto che Sala Consilina non è comune e interessato dal voto delle amministrative, lascia pensare che non è ben chiaro ancora il senso di unità. Se torniamo indietro con gli anni, precisamente nel 1861, è facile ricordare che tra le frasi più celebre passate alla storia è quella rivolta presumibilmente a Cavour da Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia, ora facciamo gli italiani. Probabilmente gli italiani ancora li stanno facendo, visto il manifesto apparso questa mattina. Progetto ambizioso fare gli italiani, visto che un territorio come il Vallo di Diano, ancora oggi, a oltre 150 anni dall'unità d'Italia, fa fatica a ritrovarsi in un'unica entità territoriale e a definirsi valdianese, con la necessità di apporre sui muri del proprio comune manifesti in cui si inneggia il voto salese, quasi come se il votare salese ha una più alta qualità rispetto a votare padulese, tegianese, atenese, sassanese, santarsenese e perché no caggianese o aulettese e ancora sansese o buonabitacolese. Non è facile interpretare il significato e quale sia esattamente il messaggio che l'autore del manifesto abbia voluto lanciare. È chiaro che se il salese vota salese, cosa ci si può aspettare da un salese che chiede il voto, molto probabilmente salese? Insomma, al di là dei continui proclami, al di là degli inutili tentativi, nonostante le continue battaglie perse per la divisione, il campanilismo e la frammentazione territoriale, tutto continua a restare immutato, almeno da parte di qualcuno. Va dato atto a gruppo positivo della richiesta di essere uniti sempre che non stessero scherzando. Ma vale soprattutto la pena riportare il commento di Roberto De Luca alla vista del manifesto, naturalmente presente sulle strade del comune di Sala Consilina, con l'immagine dei monti che sovrastano Sala Consilina. A Sala Consilina manifesti inneggiante il voto salese. Chi amministra, spiega Roberto De Luca, chi dice di fare politica, chi si professa cittadino della Repubblica Italiana parli. Non è possibile arrivare a tanto perché se ciò dovesse contagiare tutti i paesi del vallo, il nostro territorio sarebbe destinato a un declino ancora più rapido di quello a cui stiamo assistendo. Forse è il caso di aspettare prima di passare a città a vallo. Oltre 150 anni per fare solo i valdianesi sono troppi. E passiamo alla cronaca. Rientrato lo scorso 2 aprile in Italia, ieri Bruno Umperto Damiani, detto il brasiliano, unico indagato per l'omicidio di Angelo Vassallo con l'aggravante del metodo mafioso, è stato interrogato dal GIP nel carcere di Rebibbia a Roma. L'uomo però si è avvalso della facoltà di non rispondere. Damiani a breve sarà trasferito nel carcere di Salerno, dove a fine mese sarà processato per estorsione i danni dei commercianti del mercato ittico di Salerno. Nella serata di ieri invece un uomo è stato deferito in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere. Nello specifico l'uomo di Sassano, a seguito di controlli da parte dei carabinieri della locale stazione con perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di una sega a Serramanico. L'uomo, alla cui richiesta delle motivazioni del possesso, non ha saputo fornire adeguata giustificazione ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lago Negro. E voltiamo pagina. Antonio Adesso e Vito Pancella, due cittadini rispettivamente di Auletta e Pertosa, in una nota congiunta fanno il punto della situazione sulla frana che nel gennaio 2014 ha interrotto al traffico la strada statale 19 delle Calabrie al chilometro 46 nel comune di Auletta. Ad ormai 15 mesi dalla frana che nel gennaio 2014 chiusa il traffico la strada statale 19 delle Calabrie al chilometro 46 nel comune di Auletta, due cittadini, Antonio Adesso e Vito Pancella, con una lettera denunciano lo stato attuale della strada e le condizioni peggiorano. Ad un anno e mezzo dall'accaduto, si legge nella nota, la situazione resta invariata, comportando notevoli disagi ai collegamenti per la valle del Tanagro. Numerose famiglie della comunità di Auletta sono completamente isolate dal centro cittadino e le loro case rischiano addirittura di franare. Per gli agricoltori diventa difficile raggiungere i loro terreni, mettendo a rischio le loro attività già profondamente colpite dalla crisi. I collegamenti commerciali e sociali tra le comunità del Tanagro e degli Alburni si sono drasticamente ridotti e stanno rischiando di scomparire in un territorio già piccolo e periferico che traeva linfa vitale anche da questi piccoli scambi. L'arteria, prosegue la nota dei giovani, prometteva e permetteva di raggiungere facilmente il complesso turistico delle grotte di Pertosauletta e del Sistema Mida che attira ogni anno migliaia di visitatori e rappresentava l'unico percorso alternativo in caso di incidenti sul tratto Petina-Polla della A3 Salerno-Reggio Calabria. I due chiedono l'intervento della stampa locale e soprattutto della stampa nazionale affinché dia risonanza a questa grave emergenza che sta affliggendo la nostra terra e permette finalmente di risolvere in maniera definitiva e in tempi brevi la criticità a lei evidenziata. Non ci interessa trovare un colpevole tra i vari enti, aggiungono i ragazzi. L'unica cosa che ci spinge a chiedere il vostro intervento è quello di far sì che si trovi un accordo tempestivo tra i vari enti coinvolti per ripristinare in maniera rapida e concreta il tratto eliminando questo enorme disagio. Al momento, conclude la nota, l'unica cosa certa è che la frana continua ad avanzare a causa dell'erosione spondale del fiume Tanagro. Conoscendo le lungaggini burocratiche e amministrative che purtroppo vigono in Italia, temiamo che passi troppo tempo prima che vengano presi i dovuti provvedimenti. Era in programma per questa mattina al Tribunale di Salerno la prima odienza del processo Cernobil. Tuttavia l'odienza è stata rinviata nuovamente in quanto ad un imputato non erano state notificati gli atti. Il giudice Alliegro per l'unitarietà del processo ha rinviato alla prima odienza e quindi l'inizio della fase dibattimentale che sarà svolta il 12 giugno 2015. Nel processo il Ministero dell'Ambiente si è costituito parte civile. Ricordiamo che Cernobil è il nome dell'inchiesta condotta dalla Procura di Santa Maria Capoavetere tra il gennaio del 2006 e luglio del 2007. I 38 imputati, secondo l'accusa, avrebbero concorso tra loro allo smaltimento illecito di 980 mila tonnellate di rifiuti pericolosi e non procurandosi un profitto illecito pari a 50 milioni di euro. 41 mila metri quadri di terreno agricolo e posti sotto sequestro anche nel Vallo di Diano. Il comando della stazione forestale di Padula nell'ambito di attività di controlli ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lago Negro tre persone residenti nel comune di Monte San Giacomo per abusivismo edilizio e deturpamento di bellezze naturali. I tre avevano eseguito lavori di completamento di fabbricati e realizzato box per cavalli e ricoveri per attrezzi agricoli senza gli appositi permessi in un'area classificata come zona a protezione speciale. E voltiamo pagina. Domenica 26 aprile nuovo incontro pubblico organizzato dal Comitato I Briganti del Parco. L'incontro si terrà nella splendida location di Roscigno Vecchia. I Briganti del Parco Comitato costituitosi lo scorso anno negli Alburni con l'intendo di portare alla ribalta i problemi legati all'appartenenza al territorio protetto del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni si riuniranno nuovamente a Roscigno il prossimo 26 aprile alle ore 10 nella suggestiva location di Roscigno Vecchia in un'assemblea pubblica a cui sono chiamati a partecipare tutti i cittadini. L'incontro è stato organizzato anche al fine di mantenere alta l'attenzione sulle questioni che interessano il Parco e per raccogliere nuove istanze da parte dei cittadini. Da diverso tempo i comuni ricadenti nell'area protetta degli Alburni con in prima linea i comuni di Roscigno e Tati lamentano un certo disinteresse da parte dell'ente Parco su quelle che sono le vere criticità di un territorio e dei suoi cittadini. Troppo spesso costretti a subire vincoli e regolamenti senza però ottenere benefici dall'appartenenza al Parco peraltro annunciati ma mai effettivamente realizzati in particolare dal punto di vista della promozione e valorizzazione del territorio con conseguente sviluppo del settore turistico. I briganti del Parco quindi continuano a mantenere alta l'attenzione sulle questioni inerenti al Parco attraverso incontri pubblici anche per chiarire le idee come ha spiegato sul suo profilo Facebook il primo cittadino di Roscigno Pino Palmieri. Era il momento di fare il punto della situazione quindi il 26 faremo questo incontro con il comitato dei briganti e i resilienti resilienti chi? Resiliente chi oggi anche in un momento di difficoltà trova la forza di poter reagire e di costruire qualcosa di nuovo. Oggi abbiamo occasioni che sono importanti per tutti i territori ricordo ad esempio le aree interne dove adesso ci sarà un intervento forte anche in funzione dell'accorpamento dei servizi 53 milioni sull'Alburni e sulle aree interne del Cilento io chiedo ai cittadini di partecipare perché non bisogna calare l'attenzione è pur vero che ci sono amministratori capaci e competenti però quanto ci sono tanti soldi in ballo il cittadino deve controllare l'opera del proprio amministratore io voglio creare un momento d'incontro con gli amici dei briganti e gli altri amici amministratori per fare degli approfondimenti e far capire che cosa vuol dire gestire la cosa pubblica quale possono essere le criticità e soprattutto vivere a pieno il proprio territorio facendo proposte e critiche e creando un documento programmatico per quello che è la costruzione del nostro futuro il futuro non delegatelo solo agli amministratori il futuro dovete essere voi i protagonisti e la gente il popolo deve essere protagonista e deve essere in prima fila il comitato attraverso i vari incontri cercherà di raccogliere nuove istanze dal territorio presentando quelle che sono le criticità già riscontrate nell'appartenenza all'area protetta il prossimo incontro si terrà a Roscigno Vecchia uno dei luoghi avrebbe dovuto essere tra i principali siti da promuovere attraverso l'ente parco per un nuovo sviluppo del territorio i briganti e i resilienti il 26 d'aprile dalle ore 10 fino alle 18 saremo a Roscigno Vecchio e creeremo un momento di incontro tra amministratore e la gente perché solo con questa ricetta si può trovare la soluzione per poter migliorare il nostro territorio e costruire il nostro futuro Mancano meno di due mesi alle prossime elezioni regionali ma resta ancora tanto da decidere ultime alleanze da siglare il possibile nuovo asse tra Caldoro e Vaccaro che non piace al Partito Democratico Mancano due mesi alle elezioni regionali e a meno di un mese dalla presentazione delle liste siamo in una fase di totale fermento si delineano le ultime alleanze si cercano gli ultimi nomi da inserire nelle liste di partito o a sostegno del candidato presidente e non mancheranno certo i classici coup de théâtre che potrebbero far spostare l'ago della bilance da una parte o dall'altra in casa Partito Democratico continuano le polemiche attorno alla figura di Vincenzo De Luca la legge Severino è una spada di Damocle ma nonostante gli attacchi continui il già sindaco di Salerno continua la sua corsa anche in casa centrodestra c'è fermento Caldor non avrà l'appoggio dei fittiani e della destra che appoggeranno De Luca mentre recupera l'Udc di Cobellis e aria popolare il centro rischia di andare spaccato con una parte a sostegno dell'attuale governatore e l'altra a sostegno di De Luca non avendo quel peso di levante e decisivo che ha avuto ad esempio nell'elezione di Canfora presidente della provincia di Salerno la vera notizia claborosa di queste ore e l'avvicinamento di Guglielmo Vaccaro a Stefano Caldoro l'esponente del PD ha lanciato un duro attacco contro il partito Reo a suo avviso di presentare un candidato alla presidenza della regione Campania condannato e sottoposto a numerosi altri processi l'attacco diretto a De Luca è proseguito sostenendo l'inesistenza di un programma che qualifichi la proposta del PD tutto ciò equivale a dire che il partito nei fatti non partecipa alla campagna elettorale poi Vaccaro ha elogiato Caldoro e Vozza nei finiti portatori di una cultura riformatrice e ha assicurato la sua disponibilità al confronto con Caldoro sulla base di una reciproca disponibilità a valutare convergenze su proposte programmatiche che manifestino un interesse ed una capacità di dialogo tra riformisti che si ponga al di là degli schieramenti del passato e nell'interesse esclusivo della nostra comunità regionale e del nostro meridione una presa di posizione quella di Vaccaro che ha subito scatenato la reazione del PD regionale che ha chiesto le dimissioni dell'esponente PD in quanto si legge non rappresenta più nessuno né tra gli elettori del partito né tra i riferimenti politici e istituzionali che lo avevano sostenuto nelle primarie le sue dichiarazioni pubbliche le sue azioni messe in campo sono in assoluto contrasto con il nostro partito e con il sostegno dovuto al candidato alla presidenza della regione Campania prendiamo atto conclude la nota della sua volontà di allontanarsi ma abbia la dignità di prendere atto della necessità di dimettersi mentre il presidente Caldoro ha colto con favore la posizione di Vaccaro dobbiamo offrire una proposta politica capace di andare al di là degli schieramenti precostituiti ha detto il governatore Campano alcune problematiche di merito poste anche da esponenti del centro-sinistra Campano come il deputato Vaccaro vanno colte nel loro significato e nei programmi nelle cose da fare che bisogna rispondere ecco perché a posizioni come quelle di Vaccaro sono molto interessato ha concluso Stefano Caldoro Sarà anche colpa dell'imminente elezione regionale e della frattura che si sta innescando all'interno dell'Udc fatto sta che il vicepresidente della provincia il centrista Sabatino Tenore ha attaccato duramente il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora il PD è apparentemente tranquillo nessuna frattura e nessun problema fanno sapere ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio Ci sarà un incontro a breve in provincia per chiarire i fatti delle ultime ore con le dichiarazioni del vicepresidente di Palazzo Sant'Agostino il centrista Sabatino Tenore che ha attaccato il presidente Giuseppe Canfora ma se per Tenore si paventa l'ipotesi di rimettere in discussione precedenti accordi che hanno sancito l'alleanza Udc e PD per il capogruppo del Partito Democratico sollecitato dal segretario del partito Nicola Landolfi a convocare un incontro per far chiarezza non ci sarebbe nessun cambiamento politico e gestionale dell'ente di Palazzo Sant'Agostino La vicenda sia stata così espletata in maniera insomma più grande di quella che si tratta solo di di ragionare in maniera pagata e di continuare il discorso di collaborazione così come è stato fatto prima delle elezioni provinciali andare avanti affrontando i problemi che sono davanti al cammino delle province credo che ci incontreremo normalmente come ci incontriamo periodicamente con il gruppo di maggioranza per fare il punto della situazione e continuare ad andare avanti e risolvere i problemi del territorio provinciale ma queste dichiarazioni di tenore però fanno pensare che c'è un po' di attrito in questo momento al di là insomma degli accordi che ci sono stati precedentemente tra l'altro si va verso le elezioni regionali si dovrebbe riconfermare questo patto tra l'area centrista e il partito democratico per quanto ci riguarda non c'è nessun attrito anzi c'è una forte collaborazione condivisione degli obiettivi del programma da portare avanti tra me il capogruppo dell'Udc Milo ma anche i responsabili del partito provinciale quindi sicuramente ci incontreremo perché periodicamente ci incontriamo insomma ragioniamo appunto per vedere quali sono le priorità che ci attendono da qui a breve andare avanti per dare risposte al territorio niente di più niente di meno poi ogni tanto ci sono delle dichiarazioni così che probabilmente sono anche un po' enfatizzate potrebbero essere dettate dalla volontà dal richiamare l'attenzione del partito democratico ad argomentare su alcune cose proprio in virtù delle prossime elezioni regionali ma non credo il ragionamento con il partito democratico ma anche con le altre forze del centro sinistra è sempre aperto quindi noi ragioniamo quotidianamente con gli esponenti di altre forze politiche per cui per quanto ci riguarda non c'è nessuna preclusione a ragionare e lo facciamo in maniera continua insomma senza problemi senza nessun attrito sarà rappresentato giovedì 9 aprile alle ore 11 e 30 nella sala giunta del comune di Sassano il nuovo e avanzato sistema di videosorveglianza che oltre a controllare tutti i punti di accesso e i punti sensibili di Sassano rappresenta una vera e propria piattaforma per costruire una smart city ovvero città intelligente l'utilizzo delle nuove tecnologie servirà ancora di più a migliorare la qualità della vita a Sassano e a soddisfare le esigenze di cittadini imprese e istituzioni così come avviene nelle più avanzate civili città europee ora diamo spazio alla regia per qualche istante di pubblicità ma ci ritroviamo tra pochissimo con le altre notizie di Uno News restate con noi rieccoci studio con la seconda parte di Uno News questa mattina come annunciato è giunto in piazza Enrico 40 il camper del microcredito Pico grande partecipazione con un numero cospicuo di persone che sono state accolte dei funzionari della regione Campania per offrire loro informazione e assistenza nella compilazione delle domande per accedere ai fondi Pico soddisfatto del risultato l'assessore al comune di San Pietro Altanagro Antonio Pagliarulo grande partecipazione questa mattina all'incontro con gli esperti della regione Campania chiamati a offrire il supporto necessario ai cittadini nella presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti dei fondi di microcredito piccoli comuni soddisfazione per la massiccia affluenza è stata espressa dall'assessore al comune di San Pietro Altanagro Antonio Pagliarulo che sin dall'arrivo del camper in piazza Enrico 40 questa mattina alle 10.30 ha visto giungere da diversi paesi del territorio valdianese cittadini che si sono recati sul posto per approfittare dell'importante occasione di sviluppo offerta San Pietro Altanagro è stata scelta come unico comune per servire il Vallo di Diano visto anche il gran numero di domande di accesso al fondo di microcredito Pico presentate e che offre la possibilità a diverse imprese del territorio di migliorare la propria attività o di avviarne una nuova grazie ai finanziamenti del Pol Campania l'assessore Pagliarulo che è stato riconosciuto dall'amministrazione comunale referente per il progetto ha manifestato tutto il suo apprezzamento per l'iniziativa e per la partecipazione della cittadinanza Siamo decisamente soddisfatti spiega Antonio Pagliarulo del risultato e dell'iniziativa intrapresa dalla regione Campania è la prima volta che la pubblica amministrazione arriva direttamente sui territori con un proprio mezzo per assistere e informare i cittadini delle opportunità offerte ancor più se si pensa che il camper giunto questa mattina nel nostro piccolo comune serve tutto il territorio valdianese e ha offerto il proprio sostegno e il lavoro anche nella compilazione delle domande per l'accesso ai fondi è un'occasione importante per il nostro territorio ha continuato Pagliarulo e speriamo che siano in tanti ad avere la possibilità di accedere ai fondi messi a disposizione con il progetto microcredito Pico la partecipazione di questa mattina conclude lascia ben sperare e fa comprendere quanto i cittadini sono pronti a raccogliere tutte le occasioni che vengono proposte tocca a noi amministratori aiutarli il camper del microcredito Pico ora si sposterà negli alburni atteso per il pomeriggio in piazza Europa Parroscigno lo scorso 2 aprile è entrata in vigore una legge che porterà all'archiviazione per tenuità del fatto per i reati che riguardano le condotte tenute nei confronti del fisco si tratta in particolare di quei reati tributari per i quali la legge prevede sanzioni pecuniare e o detentive non superiori al massimo di 5 anni con il decreto legislativo 16 marzo 2015 numero 28 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 18 marzo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto in vigore dal 2 aprile 2015 sono state dettate importanti novità in tema di reati penali in particolare riguardano le condotte tenute nei confronti del fisco si tratta di quei reati tributari per i quali la legge prevede sanzioni rientranti nella nuova forbice di non punibilità ossia la pena pecuniaria e o detentiva non superiore nel massimo a 5 anni in dettaglio non sono più soggetti ad alcuna pena pecuniaria o detentiva i reati di dichiarazione infedele o messa dichiarazione occultamento o distruzione di documenti contabili o messo versamento di ritenute certificate e di IVA in debita compensazione e ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte restano invece esclusi dalla riforma e quindi continuerà ad essere applicata la regolare punizione per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici emissione di fatture per operazioni inesistenti sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi aggravata se da un lato tale novità normative puntano ad una riduzione del contenzioso davanti le autorità penali in modo da alleggerire il carico di lavoro dei tribunali il rovescio della medaglia secondo alcuni potrebbe essere l'incentivo a commettere condotte che sotto l'aspetto patrimoniale potrebbero essere oggi più convenienti alla luce delle minime conseguenze penali cui si va incontro in ogni caso la legge ora è in vigore e vedremo quali conseguenze positive e o negative porterà nei prossimi anni i giovani dell'associazione sassano arte cultura e spettacolo hanno indetto per domani sera un incontro per presentare una nuova idea di sviluppo finalizzata alla promozione di uno dei principali prodotti del territorio che nel passato è stato fonte di grande reddito stiamo parlando del latte e dell'importante fattore economico che ne è derivato nel passato dall'allevamento dall'agricoltura e dei caseifici i giovani dell'associazione hanno deciso di presentare un nuovo modello di produzione di latte con il territorio valdeanese che presenta le caratteristiche adatte per la produzione domani sera presso il New King di Silla di Sassano si parlerà di latte nobile abbiamo intervistato il presidente dell'associazione organizzatrice Angelo Ricciardone che spiega i motivi che hanno spinto il gruppo a questa iniziativa Sassano Arte, Cultura e Spettacolo un'associazione nata meno di un anno fa da persone che hanno un background abbastanza etereogeneo ma con un unico obiettivo la valorizzazione del territorio abbiamo già svolto diverse attività sul territorio attività ludiche attività più di carattere sociale adesso abbiamo deciso diciamo di investire su quello che secondo noi deve essere il vero volano del Vallo di Diano e del territorio circostante appunto l'agricoltura e l'allevamento perché fondamentalmente non possiamo dimenticare non possiamo nasconderci e dire che il territorio debba come dire svilupparsi su altri temi secondo noi i temi principali su cui concentrarsi sono appunto come detto l'agricoltura e l'allevamento e il turismo dall'altra parte il secondo tema appunto il turismo l'abbiamo sviluppato con diverse manifestazioni adesso invece vogliamo caratterizzarci e cercare di andare incontro al lavoro di chi veramente può risollevare il Vallo di Diano ossia agricoltori appunto ed allevatori ci siamo concentrati sul tema del latte nobile un prodotto diciamo che di cui non se ne conosce tanto di cui non è stato non se ne è parlato abbastanza ma secondo noi è un tema su cui il territorio potrebbe cominciare a svilupparsi il Vallo di Diano e Sassano in particolare hanno una lunga tradizione non possiamo dimenticare il lattesilla che praticamente ha dato come dire i Natali a tutti coloro che oggi gestiscono aziende casearie quindi l'obiettivo è andare a creare un prodotto di alta qualità al di sopra dei latti che vengono già venduti di alta qualità e vengono distribuiti sul mercato ed è un prodotto che fondamentalmente ha due scopi cioè da una parte valorizza il lavoro degli agricoltori e degli allevatori dall'altra crea un prodotto di alta qualità appunto e che si distingue dai comuni latti che vengono venduti sul mercato quindi come dire prendiamo due piccioni con una fava da una parte il latte di alta qualità dall'altra agricoltori e allevatori che non vengono sfruttati ma vengono valorizzati per il lavoro che svolgono domani sera presso il ristorante New King in Silla di Sassano alle 20 e 15 discuteremo insieme a Roberto Rubino presidente dell'Anfos Associazione Nazionale Formaggi sotto il Cielo insieme a Francesco Menafra dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico insieme a Roberto Infascelli professore della Federico II insieme a Francesco Antonio Dorilia presidente della Fondazione Mida e insieme al professore di Novella che è un esperto diciamo della flora del Vallo di Diano ci aiuterà a capire se questo progetto Latte Nobile può essere può essere iniziato nel Vallo di Diano e cercheremo di aprire un dibattito con tutti gli esperti del settore per capire appunto dove ci porterà e cosa ci porterà questo Latte Nobile con questa notizia termina Uno News ulteriori approfondimenti e notizie potete consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it grazie per l'attenzione buon proseguimento di serata Grazie per la visione